Oh, eccoci qua da me Edwin e anche l'altro Ho fatto una scommessa sul gruppo sub Quanti subriali? No, compro un pacchetto Pokémon a caso Se non trovo una carta dal valore di almeno 20$ Vanno Gibo Chi è d'accordo? In chat, nel gruppo sub Molti non ho d'accordo Gibo ha fatto un po' storia, ma vabbè Non conta Gibo Però pensa se invece trova Pensa se invece trova una carta da 20$ Quanto ci guadagni? Poco, perché tanto non so come rivendola Ciao Gibo, buon viaggio Perché nulla alla fine Ci guadagna nulla Perché non hai detto L'altro lato della medaglia Non hai detto No, esatto Se trovo La carta da 20$ in su Non te la vuoi dare Eh no, non avrebbe senso È Gizar Dipende, qual è il tuo Pokémon preferito? Gibo? Vediamo se Dicemi un Pokémon di merda Grazie a Fabio Non hai riattivato la campanellina La riattivo io Che non era partita Cioè è partita Credo Ma non si è sentita No, era due ore fa Quindi non ne si è sentita Però c'era Non sta dicendo Non sa qual è il suo Pokémon preferito È probabilissimo Che non lo sappia Non sa Non sopra il nome Non sa Amici Con Busker Ma è un cazzo È un cazzo Con Busker Non lo conosco Perché non sai niente di Pokémon Gizar Non puoi fare le carte Pokémon Non smettila Ma è di Ah no, ok Ma io non so che Conosco le prime due Infatti Non puoi fare No, con le solo Quelle delle prime due Che costano Un spasciolo di soldi Infatti le carte Le carte di World of Warcraft No, c'erano C'erano Credo che nessuno l'abbia cagato Io avevo una carta grossa così Di World of Warcraft Di Beh, ma a parte che All'altra ci spesso Ci siamo di tutto Che poi nessuno ha cagato mai Non lo so Era un grifone Non so cos'era però Perché si parla di 15 anni fa Quindi non lo so Non so neanche Non mi ricordo neanche Dove cazzo L'avevo trovata Quella carta Era molto bella però Ah, che riso è carino Sì, però Ma l'ho scoiattolo Semplicemente Non fare la Drama Queen Gibo Va bene? Fare Non c'è altro più Mi volete Ho diventato Di quelle Smettila Ridicolissimo Ridicolo Facciamo Facciamo Due notizie interessanti Eeeh Qual era il tasto? Ah, qua Sigla Ben ritrovati Oggi Andiamo a snocciolare Le news Della giornata Giocavo a Fortnite Ieri Perché? Chi? Non sono entrato nel gruppo Con voi Perché A parte che eravate in 70 Su Discord Non posso immaginare il macello Eeeh Poi eravamo già in 4 Quindi Ho giocato con Fabio Gerla Eccetera Eh, sì Ma se avete Se mi vedete su Fortnite E volete giocare Scrivetevi In caso veniamo su Discord Non è un problema Ma eravamo già in 4 Per quello Se mi vedete su Fortnite Scrivetevi Comunque La prima notizia È lo showcase di Playstation Che ok Lo faremo mercoledì Non mi ricordo Se l'abbiamo già detto ieri sera Però Sì Mercoledì Esatto È vero Mercoledì prossimo Ragazzi C'è lo showcase di Playstation Quindi Quella cosa di Playstation Dove fanno vedere Effettivamente Delle cose interessanti Probabilmente E poi non si sa Durerà più di un'ora C'è scritto Magari non far vedere Un cazzo neanche lì Però si spera di sì Ma sicuramente faranno vedere Spider-Man 2 Con la data Della sto fase Di multiplayer Visto che la minano da anni Ma chi cazzo se ne fregge Ho visto il multiplayer Della sto fase Lo so Buttatelo nel cesso Poi secondo me Vi butteranno un Bloodborne Sì Non dico il 2 Dico il remake Per Playstation 5 E PC Quello Sì Non è il 2 Ma no sì Spero La data Little Devil Inside Little Devil Inside E poi magari qualche nuovo gioco Sì 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 Poi Invece l'altra notizia Comunque faremo Mercoledì prossimo Faremo Probabilmente Fortnite La sera Facciamo il server Con voi Tenetevi Fortnite Pronto Allungando Tirando fino alle 10 Per poi guardare la conferenza Esatto Quindi saranno 2 ore di Fortnite Mercoledì prossimo Più conferenze Sì allora è 40 E più la conferenza Mercoledì prossimo Alla sera Sì Poi l'altra notizia invece È che da Dai documenti di Take 2 Attenzione Parte che hanno detto Che GTA 5 Ha venduto 180 milioni di copie E la serie totale 400 milioni Qual è il gioco Che ha venduto di più In assoluto Eh Minecraft Oppure O Tetris Può essere Ah Tetris era Però Tetris Ancora oggi Dice Allora la classifica È Minecraft Minecraft 238 Poi GTA 5 E Tetris Con 185 E 105 milioni 105 milioni Tetris Credo tutte le edizioni Eh ma non vale O il gioco base Non lo so No no Il gioco base è dell'84 Eh ma nell'84 Ha venduto così tanto Forse perché c'era solo quello Ma tra l'altro Ho scoperto adesso GTA 5 Paese di produzione Non è Stati Uniti È Regno Unito Eh Sì La Take 2 Non è Regno Unito Eh non Pensavo sempre fosse Statunitense La Rockstar è Statunitense mi pare Eh però Lo sviluppatore Rockstar North Che è nel Regno Unito No no Rockstar è UK Proprio Non pensavo Beh comunque Dicevo Dai leak Cioè dai leak Dai documenti Di coso Di Rockstar Usa Canada UK Eh hanno previsto Nell'anno fiscale 2025 Ok Di fare un fatturato Di 8 miliardi E come lo fai Un fatturato di 8 miliardi Chi? La Take 2 Con un nuovo GTA Palese Sì Perché 8 miliardi In un anno Non li fai così Su due piedi Quindi Già Sembra un annuncio Di un periodo Di uscita Perché Dire che in quell'anno Fai 8 miliardi Il fatto è che Se in quell'anno Vuoi fare 8 miliardi Non puoi far uscire A fine anno Secondo me No ma infatti Il problema Del 2020 L'anno fiscale 2025 Mi pare che parta dal Aprile 2024 Esatto Fino Esatto Quindi Entro Ottobre Massimo novembre 2024 Esce Ah beh sì Perché l'anno Poi durò Ai sei mesi Giustamente Quindi Secondo me L'annuncio Entro i Game Awards Di quest'anno C'è Probabilmente Prima Da solo Come fa di solito Take 2 Che butta fuori Il trailer A caso Secondo me Arriva Tra poco O addirittura Sarebbe il colpo Incredibile Adesso Nella conferenza PlayStation Ma sarebbe una cosa Incredibile Deve aver sborsato Un sacco di soldi Ma non l'ha mai fatto O hanno sborsato Un sacco di soldi Per farlo Sì ma Quanti soldi Devevano sborsare Per permettere Che gli freghi Un cazzo A Rockstar Anche secondo me Mi scillo È il capo Del mondo Anche secondo me L'annuncio Sarà a settembre Con i 10 anni Di GTA 5 Quello è probabile Di GTA 6 L'annuncio Sarà lì E un anno dopo Esce Salvo ritardi Ovviamente Che tanto Ci saranno sicuri Quindi Poi Vediamo Un poco Destiny Bungie Chiede Se i giocatori Sono interessati A un nuovo capitolo Della saga Forse Perché nessuno Si è interessato Alla nuova season Credo Non lo so Destiny Campa solo Di Quando esce Il nuovo DLC E poi Tutte le nuove season Tutto l'anno Se lo scordano tutti Voglio fare Ragazzi Ci mancherebbe Già Sti giorni È parecchio Incazzato Vec Non si Trattiene Casino Chissà Chissà Come Fa Campare Perché È strano Cosa c'è Nello showcase Deve Strane che due Quello È già più probabile Infatti Infatti Dicono Riceve molte visite Da Sony Prima del Playstation Socase È probabilmente Per il trailer O qualcosa Sicuramente Farò vedere Qualcosina Ci sta È uno dei giochi Di punta Con poi Kojima Figurati se Non lo sfrutta Intanto Valve è stata citata In giudizio Per l'uso Del feedback Haptico Con Steam Deck Aia Da Sony Da chi Perché mai Da Sony Scusa Non lo so Ma i Sony Fa cause Unico Ma no Ma non Penso sia Sony Perché non Ce l'ha Sony Il feedback Cioè Non c'ha Di touchpad Se ce l'ha Però non c'entra Un cazzo Da chi Aspetta C'è scritto Immersion Corporation Per una serie Di brevetti Cazzo Non lo so Vabbè Eh Ladri Poi Poi Per quelle due persone Che gli interessano Ha annunciato il BlitzCon 2023 Credo mai Nei preso Ma il BlitzCon Ormai Che cazzo Di senso Ha E fare sempre Le solite robe Diavolo Starcraft Se riuscirà mai Warcraft Se riuscirà mai World of Warcraft Airstone Ma è un gioco nuovo Perché figurati Overwatch Tanto è morto Magari non c'eranno L'acquisizione Essere acquisite Da Microsoft Quello Vanno quella Siamo stati acquisiti Ci vediamo Alla prossima conferenza Microsoft Ciao Per parola Per parola Di più Di Overwatch Sì Vediamo un poco Poi Allora Lords of the Fallen Un leak Svele la data di uscita Alcune sequenze Di gameplay Alla fine viene indicato Come il 13 ottobre Sa già la Starfield Quando sarà Sì Ma scusa Ma Lord of the Fallen Non era stata già annunciata la data Cioè non era dove uscire No era un periodo Quest'estate Sì Quando dicono così È proprio la data precisa Cioè il giorno No però L'hanno detto l'estate Quindi dicono Lì che 13 ottobre Comunque La La Cosa di Starfield Sarà Mi pare l'undici Cos'è la domenica Sì l'undici Dopo Dopo la conferenza Microsoft Subito dopo C'è mezz'ora di Starfield Quindi Nella conferenza Microsoft Non parleranno di Starfield Perché c'è l'evento dopo E subito dopo quello C'è il PC che mi uscò Quindi quella domenica Saremo coperti Tutta la domenica Poi non so se Ci saranno altre La conferenza Perché comunque Rimane secondare Allora faranno vedere Un trailer veloce Dicendo ci vediamo dopo Cosano questo E poi Tra l'altro World of the Fallen Detto Che sarà Dark Souls 4.5 Quindi Prepariamoci È appena uscita una notizia Che ho appena girato 12 secondi fa Ubisoft perdite Per mezzo miliardo di dollari Bravissima Ma C'è Ma Teoricamente Quando succedono queste cose Dell'azienda Chiudono Normalmente Perché C'ha le spalle belle L'arri Sì Però ho capito Minchia Il fatto è che è perché Non sta facendo uscire Giochi da due anni No è vero Non stanno L'unico Punta tutto sul free to play Adesso E roller coaster tycoon Che non è come si chiama Roller champions Ah già Che è morto E basta Cos'è che No ma è anche meglio Che non falliscono così Dal giorno all'altro Visto quanta gente No ma allora Per carità Le perdite È normalissimo Perché Sì ma sono tante Eh ma non stanno facendo Uscire giochi Ho capito Cioè L'unico 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 E basta E devi Dijon Se qualcuno Si gioca Ancora E Però Cosa Non hanno Sì non hanno Game as a service Importanti Tipo la Destiny O roba del genere Non ce li hanno Quindi È vero che School of Bossa Non è ancora uscita Quando è Che Ah no Non lo so C'era una data A sto punto Ma hanno chiuso tutti Gli studi di sviluppo Cosa cazzo esce No è ancora previsto Per quest'anno Generico Eh perché Ricky Perché fa cagare Ubisoft Non la vuole Sony Peccato Perché ad esempio Ubisoft Quella a Milano Sforna comunque Deve gioiellini Eh ma sti cazzi Se tutta l'azienda È un'unica Probabilmente che adesso regge Marcia fino in fondo Eh purtroppo è l'unica Che regge Poi beh i gioiellini Ha fatto Mario Cos'è che ha fatto? Eh beh Comunque è un bel gioiellino Ha fatto solo quello Però non è che ti puoi Maggiare solo su quello Lavorano un gioco alla volta Lo studio non è grande Quello a Milano Bene il meme Ma le Ubisoft Sono ottime Dai No In generale sì Lo sono È quella che Lo diciamo sempre È quella che cerca Di innovare Più o meno ogni tanto È quella Che ha le idee Migliori Però Ma non sta a svilupparla No non è neanche Se non sa svilupparle Non le sa sviluppare E le riempie di merda Perché è un'azienda Corporate Monetization E Cioè puoi avere Te le idee belle Che ti pare Ma fai cacare Quindi Non puoi Non puoi più campare Oggi Perché oggi La gente È iniziato a Selezionare Purtroppo per loro Visita secondo me Ubisoft Da 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 Tencent O una di quelle Sicuro È quello già più probabile Microsoft Sony no Ma da una cinese Probabilmente sì Però Mario Rabbids Cos'è di quest'anno Il 2 Mi pare Della fine All'anno scorso Era però L'azienda Con un'altra Tencent Ci fa i soldi Ma le IP Sì che sono buone Quelle di Ubisoft Però Non contano Assolutamente niente Le IP Perché le IP Sono Ghost Recon Sì ma Ghost Recon L'ultimi due Che sono usciti Non c'entrano niente Con l'IP di Ghost Recon Rainbow Six Siege Per quanto Sia uno dei Pochi giochi buoni Che ha Ubisoft Non c'entra niente Con Rainbow Six Assassin's Creed E gli ultimi Non c'entrano niente Con Gli inizi Di Assassin's Creed Cioè È tutto Un pochino Strano Ho capito Quello che vuoi dire Però È comunque Strano Spero Spigliano Che più interessate Faccio una cosa decente Eh lo fanno Open World Dove devi trovare I collezionabili Mentre fai le missioni Stealth Vec Watch Dogs Hanno fatto Watch Dogs Hanno scazzato Sin dall'inizio Per dire Eh vabbè Dai Poi Poi Cosa ci è Vediamo un po' Mortal Kombat 1 Verrà presentato Domani Con un trailer Sì Non ho capito Perché lo chiamano 1 Perché dicono 1 o 12 Non si sa il nome Non si è capito Ma è quello Perché sarà Un reboot Può essere Quest'anno escono tutte e tre Alla fine Sì ma cosa Cioè cos'è Cos'è un reboot Di Mortal Kombat Però cavolo Uscire tutte e tre Nello stesso periodo È pesante Remake del primo Puntare sulla storia Così perché Secondo me È l'unico modo Per tirare su Per tirare su i picchiaduro Oggi Perché i picchiaduro Non se li incula più nessuno Se non per il Competitivo Farli diventare Game is a service Il picchiaduro Chissà Come puoi fare Beh E continuare a far uscire I personaggi Però Eh però Non ne puoi far uscire Così tanti A parte che È tutto Equilibrio Di gioco E far uscire I personaggi Così Ma poi Cioè O ne fai uscire Una settimana Una al mese Anche una al mese È troppo Cioè Sì Non ha senso Non puoi farli così Come cazzo fai Boh Poi Dead by Daylight Nicolas Cage Annunciato Con teaser Rientrerà nel gioco Boh Va bene Sì sì Ah Metal Gear Solid 3 Gli Zer PlayStation Sì Dicono Non so perché A caso Proprio il 3 Vabbè È perché Sempre Perché il No perché L'un e due Non puoi farli No li puoi fare Anche l'un e due Però il Il 3 sicuramente È più facile da fare E poi è l'inizio di tutto Quindi È bello Grazie Sì sì Ma vedremo Oggi dovrebbe uscire Il gameplay trailer Esteso Di Lord of the Fallen Grazie Grazie Sì Chissà Sono curioso È di quello Perché tanto Dal gameplay Ti riesco subito A capire se È un solo slide Decente Oppure no Ormai proprio Ha Impatto Capisco subito Se va bene o no E Basta C'è dell'altro Steam non userà più Google Analytics Mas Digazzi Darkest Dungeon 2 Arriverà la versione Console Confermano gli sviluppatori Zelda Tears of the Kingdom Of the Kingdom Star Trek Purtroppo Jason Schreyer Dice cosa gli editori Devono imparare dal gioco Editori di giochi Fammi vedere un po' C'è di dire Che non è successo Anche perché Dopo molti anni I grandi creativi Del mondo videoludico Lavorano ancora Per la compagnia Tutto questo In più di servizionalmente Bello apprezzato Vabbè sta dicendo Delle banalità Grosse Come il mio cazzone Dice Eh la grafica Non è bella Tecnicamente Ma è molto bella Da vedere Sì Sono le basi Della vita Questa Eh Però effettivamente Sembra che Quando lo diciamo Noi Ci ascolta nessuno Quindi effettivamente Va in giro E la grafica E brutta Così Allora Bancu Non ero Dada Adesso No Eh Vabbè Ciò sarebbe incredibile Mark sta bigiando Intanto parla italiano Frapsa E Altrimenti Ti permabanno E No Sa Da fare sempre I traslochi Anche stamattina Comunque Passiamo Al O a meno che Aspetta Non vado mai più A vedere qua Ma qua Ce le trovo Le notizie Quelle Di tendenza Quelle fresche Fresche Fammi vedere Fammi vedere Forse no No Allora passiamo Alle notizie Di Aurora Eccoci qua Andiamo a vedere Nel mondo Cosa accade Ragazzi Accade Di tutto Ma anche di più Vediamo un po' Con Il giallo Delle 65 donne Che hanno ricevuto Preservativi usati Nella buca delle lettere In Australia In Australia Quindi sarebbero stati presi Da un vecchio Onorario scolastico Di un college femminile Cattolico Di Melbourne E ma c'è il mistero Ancora Quindi non Se ne sa nulla Niente Aggiornateci Storia Beh Le lettere Cummate Troppo rifatta Il metal detector La blocca in aeroporto L'incubo Della drag queen Mi sono sentito Un criminale Beh Perché troppo rifatta Suona il metal detector Cosa è stata rifatta C'avrà dentro robe Di ferro Beh Ostia Credo No secondo me L'avranno fermata Semplicemente Perché non assomigliava La foto Ah no ok Sì no Perché dicono Che la foto del passaporto C'entra in caso Il metal detector Quello non va bene Infatti Perché dicono sempre Di avere la foto Il più somigliante possibile Sì deve aggiornare La foto Sì più che altro Cioè non è che È che nella foto È un ragazzino Di 15 anni E adesso Ce ne avrà molti Di più Eh ma infatti Dicevano che non erano Convinti fosse La stessa persona E beh ma ci sta Cioè È completamente diverso Infatti Un'altra persona Infatti c'è proprio scritto Di avere la foto Somigliante E se no Di rifare il documento Comunque Poi Mia mamma Vuole 18 euro L'ora Per fare la babysitter A sua nipote Ma è la nonna Dovrebbe farlo Gratis Non è obbligato In realtà Non rompere i coglioni Magari È proprio perché Ha cresciuto Uno come te Che Non vuole fare la nonna Perché si rotta i coglioni Eh È Far che 18 euro L'ora Comunque tantissimo Porca troia Quando cazzo Signora Non mi rompa i coglioni È veramente tantissimo Non lo prende neanche Qualcuno che lo fa Per davvero Eh Ma il consiglio Di classe Punisce gli studenti Per il cellulare In classe La preside Va controcorrente E li porta in gita Come punizione Li porta in gita Eh Mi sto abbronzando Questi siti bianchi Devo mettere No Va controcorrente In senso che fa la cosa opposta Boh Eh sì Cioè Come punizione Praticamente Li ha portati in gita Beh Dipende dove li ha portati Magari li ha portati In una cosa noiosissima E quindi Magari li ha portati In piazzale Loreto Beh Tra poco potranno Vedere i lavori Sarà pieno di vecchi Bello Devono rifarla tutta Devono renderla pedonale E farla Ci volteranno Due a tre anni La renderanno Completamente diversa Se diventerà Un parco E Tutta la zona pedonale Incredibile Perché ancora Un rompo sporca Di Mussolini Si vede Quindi devono Rifarla La parte che è già Completamente diversa Da come la Comunque Guardia giurata Gli spara Durante un furto Lui continua a rubare Con il braccio Incessato Gli ha sparato Ha ingessato il braccio E poi ha continuato a rubare Ah si Si perché è un furto diverso Si non è lo stesso Ah ecco Infatti Scusami Non capivo Anche perché cosa faceva Lui rimaneva Lui rimaneva lì a guardare Mentre questo sanguinante Rubava Non capivo E Boromir Si Vabbè Autovelox Era stanco Poi Cinese Dai Sali in macchina Non ti faccio del male Sono cattolico come te Il video delle molestie Finisce su TikTok Questi sono i boomer Su Facebook Ragazzi Di Marco Carta Tra l'altro Non è che è diventato Giornalista Sappiamo E Che Cioè Come ti posso Convincere Di se sono un cattolico Come te Devi avere per forza Ottant'anni Per dirmi una cosa del genere Pensando di convincermi Ah è un trend TikTok Forse Forse Sì sì Può essere Può essere Naturalmente Ma Vediamo A Londra Poliziotto si finge Di essere in servizio Per accedere al backstage Ma viene scoperto Ed è costretto A dare le dimissioni Abusato Dal suo potere Da poliziotto E pensa che è sfigato Per un concerto Del cazzo Poteva farsi Mettere come In servizio Poteva andare in servizio E essere lì in servizio Poteva lavorare Veramente Che sfigato Gli sta benissimo Acab Poi Damiano Si apre l'accappatoio Davanti a Giorgia Soleri Che commenta Hai una macchina enorme E' una cazzata Naturalmente E' una foto Stupida Che ha messo Damiano Su Instagram Di lui così Con l'accappatoio Davanti Alla sua ragazza Davanti alla sua ragazza Non si vede niente Ci sono due foto E una Lei fa la faccia Così E non è Niente di Ci hanno fatto Un articolo Su una foto Cioè come se io La storia di stamattina Con il pupino Di Zelda Che mi balla Sul Nel Cazzo di Nella cucina E ci fanno l'articolo Amoro dei termosifoni A un Invasore In cucina Link Di The Legend of Zelda Sì Va bene Bel cazzone Comunque Damiano Complimenti alle palle Ma andiamo a vedere Qui Da bambino Lugino Naturalmente Che mette Una notizia Del paese suo Terni La vacanza Green Di una coppia Casetta in legno Trainata da cavallo Dalla Francia A piedi luco Ma che figa Vabbè È un camper Da D'alpino Praticamente Ah bellissimo Ma Questo non è stagione Per andare adesso Dai Queste alluvioni Tra l'altro Mia mamma ha preso Il camper Ha preso Così Non c'era voglia Sviare No è che lo cerca Da un pochino L'hanno trovato L'hanno trovato L'hanno preso Quindi Le lo rubo E vado io Col camper Dove vai Che tanzo C'è voglia Vai di fianco a casa Lo parcheggi Lì E stai lì Sì Beh Vabbè Poi Sono l'unico Senza camper In famiglia Ma la notizia dopo La notizia dopo Adesso Quando mi si apre Francesco Totti Diventa una statua Di lego Sì ma un'immagine Niente C'è scritto C'è scritto video Ma io non vedo niente Cioè Neanche nell'anteprima C'è un video Ma non c'è Nell'articolo Non c'è niente Non carica Una sega di niente Di video C'è solo il titolo Cioè Vabbè ci fidiamo Se siete di Fiumicino È realizzata con 70.000 Mattoncini Ed è esposta a Fiumicino Il centro commerciale Wonside Se siete lì Fateci una foto E mandatelo Non glielo dico A Mary Non glielo dico Poi Ho provato Karin AI La fidanzata virtuale Da un dollaro al minuto Costa troppo E ha oltre mille partner Interessante Genio Chi l'ha inventato Non si fa pagare Un dollaro al minuto Complimento Tantissimo Ma c'hai Una ragazza Che però È già fidanzata Con altri mille Vabbè Ma basta che Ti fai andare bene Quella piccolezza E Sei a posto E il fatto che costa Dai Questa Non la posso leggere Perché non sono abbonato Quale dire pubblico Mantova Hanno un figlio Hanno un figlio Ma lei ha 13 anni Lui 19 Il processo per violenza sessuale Arrivano insieme Siamo una famiglia È effettivamente fuori dal range Da quello che so Hanno un figlio Ma lei ha 13 anni e lui ha 19 Però Se lui è maggiore N Credo si sia la grava Non lo so Beh no Dipende sempre se lei Il fatto che ha 13 anni Non può avere consenso Ne niente No Fatto E Però Non In pratica Alziamo questo consenso A 16 Almeno Per favore Beh ma in realtà 14 14 Infatti già a 30 Non capiamo un cazzo Ma figurati a 13 Ma come cazzo è possibile Adesso qui non lo so Perché se Erano consenzienti tutti e due Però tecnicamente C'è la legge La legge Ma c'erano Anche i fidanzatini All'asilo Sono consenzienti Perché sono Fidanzatini Però Non è che fa Non vale così Anche perché A parte il consenso Cioè io mi ricordo Quando andavo a scuola Alle superiori C'erano C'erano stati Casi di accusa Di stupro No perché qui dicono Che anche i genitori Erano d'accordo Di entrambe le famiglie Ma non importa E non lo so Perché lì Tecnicamente sono i loro tutori Infatti adesso Anche la madre Della Della ragazza È imputata pure lei A parte erano d'accordo Per cosa Che scopassero No che la relazione Ci fosse Poi vabbè Ma quello Ma quello Non vuol dire La relazione Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Cioè da me Tipo alle superiori C'erano Stati casi Di accuse Di stupro E Di sta ragazza Che Appunto Aveva avuto Una relazione Con Sti due ragazzi Poi Si era messa in giro La voce Che È stata Stuprata Da questi due Robe così Però vedi Allora qui Perché qui C'è l'accusa Di violenza sessuale Cioè Tutte queste robe qui Ma alla fine Non era vero niente Non si è fatto niente Perché non era vero niente In realtà È questa Che poi Si è pentita Semplicemente E ha messo in giro La voce Che Ma è quella stessa cosa Perché qui lui È accusato di violenza sessuale Ma in realtà Non c'è stata Cioè qui È appurato che non c'è stata Lei Se hanno un figlio Vabbè violenza sessuale Perché è stato Non c'è C'è La violenza non c'è Quindi tecnicamente L'accusa non c'è Però Ma lui è accusato di quello Però il fatto No è sempre violenza sessuale Ma non so Eh sì Però non deve essere incolpato Perché non c'è stata Ma le famiglie concorre Non conta niente Perché sì È violenza sessuale Comunque se Se tu stai con un 12-13enne Che Non lo so Perché infatti l'avvocato dice No Che dice di essere consenziente Comunque Non Non ha diritto Di Decisionale Lei Quindi non conta niente Che lei sia Dica di essere consenziente Perché Fino all'età del consenso Non c'è consenso Anche se Lei lo dice Quindi è violenza sessuale Non lo so Perché qui l'avvocato dice Che andrebbe Andrebbe effettivamente Visto caso per caso Perché Poi non lo so Non è che Fino a 13 anni 364 giorni È un conto E il giorno dopo Cambia completamente Cioè Non lo so Sei sotto le tereche Comunque Perché non può dare consenso Esatto Quello che ho detto Adesso Cioè Te puoi dire Ero consenziente Ma se hai 12 anni Non hai neanche idea Di cosa stai facendo Quindi non c'è vero consenso Quindi è sempre Violenza sessuale Perché tu stai Violentando psicologicamente Anche solo Ti stai approfittando Del fatto che una persona Non ha ancora l'età Per capire Secondo me Secondo me comunque Qua non gli daranno Nessun Cosa Anche perché Adesso c'è anche Un figlio di mezzo Quindi Perché comunque Rischia 12 anni Di carcere Eh beh Il figlio lo daranno Non lo so Secondo me Quando gli daranno Non succederà nulla E se guidare A 15 anni Prendo la patente Sì Sai guidare Anche meglio Di un cinquantenne Ma non hai Il diritto Sì esatto Un'arma a favore Dei minorenni Che vincono A prescindere Ti ingannano E poi ti denunciano Facilissimo una cosa del genere Invece se è tutto consapevole Non è giusto così Che vincano A prescindere Ti ingannano E poi ti denunciano I minorenni No Tu se vai con un minorenne Sei tu nel torto Anche se lui ti ingane Non devi mettere Il pisello Nei minorenni Comunque sarà che non condannano Alla fine la legge Va anche applicata A parte che Cioè poi non ho Cioè ti ho chiesto prima E in Italia Sì è a Mantua Quindi Sì 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 In Italia Sì anche se Secondo me non condannano nulla Non succederà nulla Ma non è possibile Cioè comunque Per forza dei provvedimenti Verranno presi Sì ma non lo metteranno Cioè non danno il carcero Principalmente Non lo so Ma il figlio per forza Lo devono togliere Come ho detto Cioè come cazzo fai Io sono minorenne Voglio una relazione con te Io ti do il consenso Poi ci metto zero A cambiare l'idea E portarti in tribunale Perché avrei comunque ragione Io minorenne Ma infatti La responsabilità È del È del maggior Non del minorenne Il minorenne Non ha Cioè non ha voce in capitolo A 14 poi A 14 poi C'è l'età del consenso Però se Se tu sei Cioè tu sei il maggiorenne Non devi Non devi Punto Cioè non è che Mi dai il consenso Allora mi fido No no Tu non devi Punto Il discorso è quello Il consenso è nullo Anche quando c'è Esatto Ma perché non c'è Non c'è il consenso Sotto l'età del consenso Non c'è il consenso Per quello C'è l'età del consenso Poi quella è la falla Di un sacco Cioè anche Nella maggiore età Se io Sto con una persona E poi questa qui dice Io non ti ho dato il consenso Dopo Probabilmente Insorgono Un sacco di casini Quello È sempre Però L'età del consenso Appunto È che prima Non puoi dare Alcun tipo di consenso Bibbia ebraica Venduta per 38 milioni di dollari A Shoot's Buy Shoot Buys Eeeh 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 Altro che le carte Pokémon Colleziona le Bibbie Incredibile Eh sì Scopo con chi voglio Comunque La Pellegrini La Pellegrini Senza freni Sul triangolo Con Magnini E Marine Vabbè resta una storia Di dieci anni fa Ci ha scritto il libro E chi se l'ha preso Vabbè Che so Eeeh Evidentemente scopa Con chi vuole Solo per il titolo E anche per il sottotitolo Vediamo un po' Crocifissioni Torture Mech E missili Che succede In Tears of the Kingdom Dall'invasione Degli ultrapeni Alle fantasiose Sevizie Di dolci Korogu E poi aerei da caccia Tank E robotoni Addirittura hanno La nuova opera di nintendo Sta scatenando i videogiocatori Vabbè che in realtà Non è un articolo Negativo Però Effettivamente uno Pensa magari All'immaginario di zelda Sembra ovviamente strano Scritto con la u maiuscola Comunque Che in realtà Poi l'articolo Vabbè Eh ma io l'ho detto Siccome Tears of the Kingdom L'hanno L'hanno sviluppato Basandosi su Quello che la gente Faceva su Breath of the Wild L'idea l'hanno presa da lì Adesso Il prossimo Sarà Basandosi su quello Che fanno Su Tears of the Kingdom Quindi il prossimo Zelda sarà pieno di cazzi Ragazzi No ma scusa Guarda un tweet C'è Uno ha costruito Praticamente un barbecue Dove costruisce Dove cucina Gli animali È incredibile Ma c'è la gente È pazza E ingegnosa Giusto Giusto C'è un Mac Poi dopo Facciamo un bel cazzone Anche noi ragazzi Ci mancherebbe Vediamo un po' Allora Colombia Il presidente Petro Ritrovati vivi Dopo 15 giorni Quattro bambini Sopravvissuti In un incidente aereo Ma sulla storia Crescono i dubbi Non c'è stato Ritro O i dubbi Sono strani Contraverne L'autorità Avevano avviato Le ricerche Con 100 uomini Vabbè Ma non c'è niente Da rassegna Sullivan È terribile Basta Sì Vediamo L'ultima notizia Di Chinese Fa sesso Per 24 ore E finisce In rianimazione Sì Ma forse È per l'altra cosa Che c'è scritto Forse Credo Una combo Perché comunque Marito e moglie Avevano assunto Metanfetamina L'uomo è arrivato Al pronto soccorso In shock settico Ricoverato in rianimazione In 50 anni Ha rischiato la vita E più che altro Cioè Non hai più il pisello Sesso fatto Nel senso Che erano fatti Mentre facevano sesso Non che l'hanno fatto Comunque Passiamo Visto che oggi Oggi danno buca a tutti Comunque Sti bastardi Ma passiamo Alle notizie Dell'almanarco Di Liezar Prego Fammi sentire Quando che l'abbia fatto In teori Allora San Gioscro Di Alessandra San Potamone Vector si chiamerà Potamone Adesso San Teric Nono San Leonardo Murialdo Santi Teodoto Tecusa Alessandra Claudia Faina Eufrasia Matrona E Giulitta Tutti San Venazio Di Camerino Beata Blandina Del Sacro Cuore E Beato Burcando Di Ben Will Ben Will Ma si L'hai inventato Il look Presamente Sì sì Ormai non ha più Fantasia Nel 1921 Viene messo in commercio Il Cerotto Nel Nel 1921 Vabbè giustamente Prima usava Le Garze E i bendaggi Vabbè sì Nel 1934 Un articolo Sul New York Daily News Compara per la prima volta Il termine Oscar Per indicare Il premio Degli Academy Awards Nel 1951 In Svezia Viene presentato Il Tetra Pak Ideato dall'imprenditore Rubem Rausing Bene Nel 1958 Per la prima volta Al mondo Una donna guida Una monoposto Nel maggior campionato Tumoristico Del mondo Era la signorina Napoletana Maria Teresa De Filippis Participa Al Gran Premio Formula 1 Di Monaco Nel 1976 Entra in vigore In Italia La legge Che vieta Di fumare All'interno Di alcuni locali E su mezzi pubblici Nati oggi Nel 1920 Carol Whitehill Stavo parlando L'altro giorno Del divieto Di fumare Di locali pubblici Stavo parlando L'altro giorno Con la CRI Quando è che hanno Messo l'obbligo Della cintura Di sicurezza In Italia Perché Inizio 2000 Mi pare È recente O fine 90 Insieme al casco Io ce l'ho già Ero già nato Da un po' Sì Era a fine 90 Inizio 2000 Credo Tipo anche il casco Il casco Quando è che l'ha messo L'obbligo del casco Nei motorini Nei sotto i 14 anni Ah no Anche l'obbligo a tutti Anche quello È abbastanza recente Eh sì Credo nello stesso periodo Della cintura Prima della mia patente Quindi 2000 Sì inizio 2000 A fine 90 Inizio 2000 E infatti Perché mi sembrava Anche a me Che era posto 2000 Perché anche il divieto Di fumare Nei locali pubblici Quello lì Sarà stato Quanto del 2006 Sarà stato Quello completo Il primo è stato Nel 1976 Poi quello completo È stato anche Lì Anche lì Anche lì Nel 2000 Poi Nel 37 Il mago Silvan Grande Nel 46 Giampiero Galeazzi Nel 64 Paolo Vallesi Nel 66 Ricco Brignano Nel 67 Heinz Harald Frenzen Il mitico Frenzen Poi Nel Proverbio Ogni goccia D'acqua Bagna e nutre Ogni filo D'erba Proverbio Ginese Poi Giornata mondiale Per il vaccino Contro l'AIDS Giornata internazionale Dei musei Giornata nazionale Del visitare i parenti Giornata nazionale Dell'aperitivo Giornata nazionale Del souffle A formaggio Giornata nazionale Del niente piatti sporchi Che scuola superiore ho fatto? Ho fatto lo scientifico tecnologico C'è ancora gente che si ostia a fumare Che non esistere A me non mi è mai capitato No Mai visto Io L'ho letteralmente mai visto Per i fumatori Sì ci sono le sale apposta In caso Ma mai visto Pana aperto Non ho più mai visto Gente che fuma nei locali Anche perché Lo calciano a calci nel culo Via fuori dalle palle Perché Adesso se Una persona S'appiccia una sigaretta In un locale Lo sente tutto il mondo Si girano tutti Non ho mai visto Sì non esiste più Il scientifico tecnologico È stato Cancellato Dallo svariati anni Comunque Passiamo Al Saltando Dalla segna buba Passiamo Al Coso Qui come si chiama Fammi aprire un'altra Chiudo la finestra Maledizione Il Geoguesser Il Guess the Game Che non è il Geoguesser Ah Quella di oggi è facile Ragazzi Quella di oggi È facile Vabbè Schippa Perché Vabbè Schippa Per me è Super Mario Bros Due Ah si New Super Mario Bros 2 Non era Ciao Ciao Però è da Mario Però è da Mario Ma le scritte così Beh quelli vecchi vecchi Sì Super Mario No secondo me non è Mario No può essere anche altro È per carità Però A parte che È troppo vecchio intanto Cazzo Cos'è Come si chiama Questo È la terza Sì Questo è un gioco di lotta Ma scusate Ma scusate Quello non è Rocky Che corre dietro Con lo tizzo in bici Punch out Punch out Ecco qua Mike Tyson punch out Eccolo qua Sì E c'è anche Mario Alla fine C'è anche Mario Bello Bello Poi Passiamo Al Clip Termole Ecco qua Ancora Bagata L'altro Ieri Hanno spoilerato Tutti Su Discord Poi sono arrivate La valanga Tutte di gente Ah Eravamo con Pasqui Abbiamo fatto Una cosa top secret Non ve la possiamo dire Sul clip Termole Riguardante Questo L'hanno detto Ho spoilerato tutto Mi ho spoilerato Niente ragazzi Pasqui Mi spiace Devi trovare gente Più fidata Per testare Le tue cose Ma Fatemi sentire La clip Posso? Siete partita Lidder? A me sì E aggiungo La pagina Se E basta Porto di al piatto Arrivo subito Bro Bro Schi Carca misera Cos'è Bisogna riconoscere Il suono Bisogna riconoscere Il suono del gioco Perché Non succede nulla Instaclip È qualche di palese Ma non so Ma lì C'ero anche io Aspetta Fammi risentire No 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 È un marchio Bro Come non si sente? No si sente Ma è basso È basso Non succede nulla No Boh Metto Hitman Non è Hitman Però Non lo so Il martedì 10 novembre 2020 E questo suono Di sottofondo È un menu Di qualche gioco Ma non so Si Metlord È i mezzuddu Che ci ha fatto La grafica Ehm In chat No Non è Blooms Non è Lo sono Di blooms Ci potrebbero Ripartire Sì Ma Ehm House Flipper No Mi sembra più Un gioco Subito Bro Spesante C'è questo Flipp Quando cambia i menu Tipo Grazie 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 Stas Ingrid Lui l'aveva Fatti Ehm Basta Porta Di al piatto Arrivo subito Bro Non so Quale E il Valhalla L'aveva fatto Lui Si Era Valhalla Grandi Cazzo Ballhalla Sì Ma Nel clip Del cazzo Boh ragazzi Parazzante Questo è un clip Difficilissimo Ah Ecco qua E Eh ragazzi Chiudo C'è qualche Rimostranza da fare Prima che chiudo Adesso O adesso O mai più ragazzi No ecco Non è rimostranza No Per chi Volesse fare Nuovi personaggi Di WWE Lo facciamo Settimana prossima Non so se è già La Rumble Però comunque In caso di iniziare a farli Devo prendere il DLC Nuovo Cioè devo prendere il DLC Perché Per usare le cose in più Esatto Possono Comunque create i personaggi In caso Se Pian pianino Perché settimana prossima Lo facciamo Sarà la Rumble Poi settimana prossima Non lo so se è già la Rumble O che era Era l'ultima volta Abbiamo fatto Il Vabbè In caso facciamo Comunque la Rumble E Creati i personaggi In che senso Lo bambino Si è stato tolto Dagli infami di Sony Probabilmente era sul Plus E l'hanno tolto Sull'Extra Eh ma ti rimane Se lo Guarda che Eh no Se era un abbonamento Lo tolgo Un po' come i giochi Del Ah era nell'Extra Scusa Sì Ah Vabbè La buba Neanche un assaggino No Chiudo Quindi Eh Ci vediamo Stasera Non lo so Con cosa Facciamo Stasera Stasera Dobbiamo fare Parchegginini No No No